Allora, vediamo un po' di numeri, partiamo da una favola, perché qualche mese fa eravamo tutti all'interno di una bella favola e questa favola aveva ovviamente, se Biancaneva e il mercato delle costruzioni aveva i suoi sette nani, questi sette nani sono sette cose che sono elencate lì, alcune sono già state dette da Roberto, l'effetto super bonus, l'accessione del credito, il PNRR, i depositi bancari e le famiglie, non dimentichiamoci, poi i numeri ve li do tutti. E alcuni elementi, c'è anche un brontolo qui in fondo che è l'aumento dei prezzi e il tasso di inflazione, ma insomma diciamo che tutti questi elementi complessivamente stavano raccontando una bella favola, poi è arrivata la strega. E come in tutte le favole c'è il momento in cui arriva la strega, la strega cosa ha portato? Biancaneva portava la mela avvelenata e noi abbiamo avuto qualche mela avvelenata, qualche diciamo cosa che non ha funzionato molto bene. Stoppa l'accessione dei crediti, poi riparte un po' il credit, non riparte, però lo stop ha dato comunque un primo colpo, anche se non particolarmente significativo, ma riduce la fiducia nell'utilizzazione degli strumenti, anche gli elementi che stiamo vedendo in questi giorni, non si capisce, le banche possono adesso andare al quarto, dopo però sembra che alcune banche dicono adesso basta crediti, cioè sono tutti elementi di destabilizzazione. Un ritardo ministeriale nel riconoscere l'aumento dei prezzi che c'è stato, siamo oggi con in mano una tabella che è la tabella dei prezzi del terzo trimestre 2021, ma siamo già all'inizio del secondo trimestre 2022. E parliamo di aumenti del 30, 40, 50% a quell'epoca, ma nel frattempo è successo altro, no? Il tema dell'inflazione e poi, vabbè, questa cosa che è probabilmente la mela avvelenata peggiore che è la destabilizzazione internazionale. Allora il tema è, rischiamo di fare questa fine, no? Cioè ci addormentiamo e con i nani che pregano e dicono, no dai, speriamo che, eh? Vi ricordate, se sei tu l'anzello azzurro, questo azzurro non mi piace, non so, arriverà un principio azzurro, ci piacerà, non ci piacerà, non lo so. Però aspettare sempre che arrivi qualcos'altro, forse non è il modo giusto di affrontare il tema. Allora guardiamo molto velocemente, le scorrerò un po' di dati generali, ma solo per dire che le partenze, le partenze delle, diciamo, delle valutazioni sull'andamento complessivo della ripresa economica post-Covid a livello mondiale, le partenze vedevano degli elementi positivi che si sono leggermente raffreddati, queste sono due previsioni a un anno poco più di un anno di distanza, ma per l'Italia vedevano comunque un dato molto positivo, questo più 6,5%, che in realtà è diventato un 6,6% complessivamente nel 2021, un aumento del PIB molto significativo. Ma se noi pensiamo che a fine dicembre si prevedeva che per quest'anno saremmo cresciuti del 4,7%, oggi il DEF vede, almeno le prime valore, al 3,1% la crescita, quindi abbiamo già tagliato di 1,6% la crescita. La Banca Italia dice, sì, lo scenario migliore è un più 3, ma in realtà c'è uno scenario peggiore, perché le streghe non sono mai, non stanno mai ferme, no? E dice, ma forse cresceremo dell'1,5%, Confindustria dice 1,9%, c'è qualche Cassandra peggiore dice 0,9%, non lo so, non si sa. Certamente, ovviamente, la favola si è interrotta in questo momento, dobbiamo capire come andrà avanti, è chiaro che questi sono elementi sui quali riflettere. E, diciamo, l'economic sentiment indicator a livello europeo segnala un rallentamento, questo è un indicatore di anticipazione di quello che sta accadendo. Quindi è vero che il mercato sta andando ancora bene, però attenzione, perché sta andando bene, ma anche forse non così tanto bene. La dinamica attuale del PIL a livello europeo è positiva e noi abbiamo avuto una crescita migliore, per la prima volta ci siamo svegliati nel 2021 che eravamo più bravi, per la prima volta eravamo più bravi degli altri. Non è mai successo, ma soprattutto non era mai successo che il nostro PIL crescesse ad una velocità migliore di quella degli altri paesi, io vi portavo sempre i dati dicendo che noi perdevamo un punto rispetto alla media. L'Europa cresceva di due e noi di uno, l'Europa cresceva di tre e noi di due. Invece per la prima volta siamo stati più bravi degli altri. Una favola bellissima e purtroppo con le streghe. E nelle costruzioni questa favola era molto, molto, molto ancora più, diciamo ci mettiamo un esponente alla 2, alla 3, alla 4, vedete voi, perché guardate i numeri soprattutto da ottobre 2021 a gennaio 2022 della crescita media anno su anno, cioè lo stesso mese rispetto allo stesso mese dell'anno precedente e guardate a livello italiano, ma quando mai? Più 21, più 13, no? Ma sono numeri, cioè penso che non li abbiamo mai visti questi numeri, no? Allora da un lato la buona notizia, la cosa bella, appunto la favola, era la ripresa a V, vi ricordate che avevamo detto ma c'era la presa a V, a W, speriamo non a L, cioè tutti quelli parametri che Cervede ci aveva dato come indicatori delle modalità di ripresa post-Covid. In realtà la ripresa a V nelle costituzioni c'è stata, e quanto è stata? Perché noi se guardiamo solo questo ultimo periodo rischiamo di imbrogliarci da soli, cioè di dire ma guarda fatto 100 tutto il periodo del 2014 al 2018, adesso siamo a 120, fantastico, bellissimo, in realtà nel lungo lunghissimo periodo siamo più o meno quanto era il 99, ma anche il 2012, quindi anni, uno un po' più buono, uno neanche tanto così buono, perché uno era prima della crescita che non tornerà mai più così elevata, lo sappiamo, ce lo siamo già detti, il mantra, però in realtà siamo su una posizione sicuramente molto positiva. Guardate che i numeri del boom sono potenti, se il PIL è cresciuto del 6,6, questi sono i numeri certificati da Eurostat, poi andremo a vederli meglio nel dettaglio, ma gli investimenti fissi loro del 15,8, gli investimenti in costituzioni secondo loro del 21,4, cioè ancora più alti, e quasi, cioè molto più alti di quanto li abbiamo stimati noi in Italia. Allora, dopo tutta questa ubriacatura, cosa ci aspetta? Perché in realtà questi sono numeri da ubriacatura, da effetto morfina, ma forse anche un effetto combinato di altre sostanze dopanti, a mio avviso. Allora, un ICMI che fa queste previsioni, sono sempre molto prudenziali, secondo me molto anche corrette, dice attenzione perché quest'anno al netto di ciò che potrà essere l'impatto della guerra in Ucraina, cresceremo del 7%, un buon dato complessivamente, con il PIL che doveva crescere al 4,1, però in realtà se riduciamo il PIL probabilmente si riduce anche la parte sopra, la curva blu, però attenzione agli effetti reali, perché l'inflazione è molto più elevata e rispetto agli anni passati quando l'inflazione era bassa, adesso una crescita prevista del potenzialmente del 7,6%, in realtà è una crescita reale del 3,8, quindi attenzione a fare i budget, cioè attenzione perché la crescita reale è quello che effettivamente valgono poi i nostri soldi. Allora, prologo della storia, i protagonisti, non la faccio lunga perché non ho tantissimo tempo anche per non rubare le spazio degli altri, però vediamoli velocemente, i protagonisti, super bonus, siamo arrivati a 139 mila severazioni, 24 miliardi di spesa, 17 sono già spesi, cioè 24 miliardi di investimenti, scusate, 17 miliardi già spesi, effettivamente poi spesi sul mercato, cresce mediamente tra 2,5 e 3 miliardi al mese il mercato. Abbiamo velocità completamente diverse nei territori, se noi prendiamo tutte le asseverazioni, le dividiamo per il numero di famiglie, lo valutiamo su mille famiglie, abbiamo circa 5,3 interventi ogni mille famiglie. Noi in Veneto siamo campioni, siamo i più bravi, quindi un applauso al Veneto, arriviamo quasi a 8,5, se a un Veneto gli dai un'opportunità fiscale, la usa subito tantissimo. Però attenzione, perché anche in Calabria la usano tanto. Paradossalmente il super bonus fa vedere che non ci sono tante differenze, a parte il braccino corto di Liguri, quello, cioè, non è una, no? Loro sono a 2 su mille, vabbè, 1 su mille se ce la fa, 2 su mille ce la farà, anche il meglio. Ma se andiamo a vedere, al di là della questione delle asseverazioni, la cosa interessante è che il super bonus ha mosso tanti investimenti, soprattutto in alcuni mercati difficili, come quello dei condomini. Siamo la spesa media degli interventi di condomini intorno ai 540-550 mila euro di intervento a condominio. E guardate che i condomini si prendono metà degli investimenti in questo momento. Cioè è stato l'unico sistema, ma perché? Perché l'altro, diciamo, nano, visto che siamo da favore e biancaneve, è l'accessione del credito e lo sconto in fattura. E quale dei due strumenti è stato quello preferito? Lo sconto in fattura. I condomini nello sconto in fattura, a manetta, come si dice in giro, cioè superutilizzazione dello sconto in fattura. Lo sconto in fattura è stato il Grimaldello che ha fatto, diciamo, che ha permesso la velocizzazione di questo strumento, ma ha permesso anche la velocizzazione degli altri strumenti. Per brevità non vi mostro tutti i dati possibili, ve li dico a braccio, ma voi sapete che ci sono state molte frodi e non per quello ci sono stati i blocchi da parte del governo, ma dei 4 miliardi di frodi che hanno scoperto, il superbonus fa poco più di 100 milioni. Gli altri dove stanno? Nell'utilizzazione di questi strumenti che sono stati utilizzati gli altri bonus, 2 miliardi sul bonus facciate, 2 miliardi sull'eco bonus. Perché? Perché lì non ci sono asseverazioni, controlli, soprattutto il bonus facciate non aveva detto di spesa, e quindi abbiamo avuto questi elementi negativi. L'orizzonte è un orizzonte positivo, quello del superbonus, perché è pluriennale, per una volta tanto abbiamo un po' di anni, non dobbiamo aspettare dicembre per sapere se l'anno dopo abbiamo i bonus. Sono un po' a scalare, ma ci si può programmare. Quindi, elemento positivo, il PNRR, 235 miliardi, 191,5 miliardi, destinati agli interventi, dei quali in questi interventi 107 sono quelli stimati relativi al solo settore delle costruzioni. Allora, 107 miliardi al settore delle costruzioni, visto che questi sono soldi che spenderà l'amministrazione pubblica, l'IVA è un costo per l'amministrazione pubblica, portano a casa, quindi lo Stato si fa dare dei soldi e un po' si li tira dentro da IVA, vabbè, ma a parte quello, saranno effettivamente 80 miliardi quelli da spendere per le costruzioni. Perché se facciamo i 107 al netto dell'IVA, diventano 95, leviamo le progettazioni, perché poveretti, anche gli architetti devono camparci, e tutto il resto. Ovviamente servono le progettazioni, noi in questo momento stiamo spendendo soldi soprattutto per quello. Comunque, 80 miliardi vuol dire 20 miliardi aggiuntivi per 4 anni, perché entro il primo semestre 2026 questi soldi devono essere spesi. Spesi. Ne saremo capaci? Perché a dicembre noi avevamo ancora 32 miliardi da spendere della vecchia programmazione 2014-2020 dell'Unione Europea. C'è una sfida non da poco. E poi però abbiamo altre buone notizie. Ogni mese, soprattutto nel periodo del Covid, in questi due anni, ogni mese, nella media, sono aumentati i depositi bancari delle famiglie di 10 miliardi. Siamo arrivati a 1780 miliardi. Potremmo azzerare il debito pubblico, poi con buona pace dei correntisti. sono soldi sotto materasso. Quindi lì c'è una risorsa. Ok? E le previsioni immobiliari sono positive in questo momento. Adesso vedremo l'effetto della guerra ucraina. Attenzione, perché quello se finisce il 9 maggio con la grande parata e con la dichiarazione che avrà vinto il Donbass, poi adesso non voglio entrare in questi scenari, però è chiaro che è uno scenario. Se la cosa andrà avanti sarà diverso. Però certamente c'è un mercato che è un mercato oggi non dopato. Perché attenzione che negli ultimi anni quel pezzettino in più che vedete in alto là erano le surroghe dei mutui. Cioè non erano un nuovo mercato, era semplicemente sui mutui. Quindi i nuovi mutui che si stanno facendo sono effettivamente nuovo mercato. Se andiamo a calcolare quanti mutui si stanno facendo e li depuravamo dalle surroghe che erano mutui già esistenti, in realtà il valore era più basso prima del 2021. E l'altro dato che è quello importantissimo che noi sostanzialmente siamo già arrivati quasi al 70% di patrimonio edificato che ha più di 40 anni. Questa onda lunga del recupero. Altro elemento super positivo è la fiducia alle imprese. Mai stata a livelli così elevati. Guardate dal 2014 ad oggi col crollo il blocco addirittura aprile 2020 non è stato neanche calcolato le imprese non sono state intervistate da Istat siamo a un livello altissimo di fiducia ma i giudizi sull'attività degli ultimi mesi delle imprese in crescita attenzione perché hanno un primo elemento di calo. È chiaro che adesso questi dati qui li stiamo tra l'altro mettendo in ordine in un modo tale che su Utrade ogni mese troverete un indice che dirà il sentiment del mercato come sta andando e già questo però ci dice cosa sta un po' succedendo perché gli ordini che erano in forte ripresa stanno leggermente rallentando il dato è sempre più positivo rispetto al passato ma in questo momento io non vado a vedere cosa succederà nel 2014 vado a vedere se il trend si mantiene oppure è chiaro che stiamo meglio di un po' di anni fa però attenzione perché questi segnali mi dicono cosa potrà succedere domani mattina e se li combino con questi questa curva tra un po' diventerà una specie di una volta c'era il sesto grado poi siamo arrivati al settimo ottavo con l'alpinismo e poi ovviamente c'è Brontolo Brontolo c'è il nano Brontolone quello che segue però dice attenti state attenti perché il tema è questo tassi di interesse oggi sono sotto zero è vero che il denaro costa zero però è anche vero che l'inflazione è ripartita e attenzione perché nei momenti in cui l'inflazione ripartiva prima guardate la curva rossa rispetto ai tassi ufficiali poi è sempre successo qualcosa qui non è per fare le casate però il tema è sempre la prudenza in questo senso la prudenza le scelte e qui allora vado a chiudere il mio intervento con un epilogo abbiamo fatto un prologo la favola di Biancaneve abbiamo raccontato un po' questi numeri adesso vediamo quale può essere l'epilogo di questa di questa storia certamente viviamo in un momento di mercato drogato è un tempo eccezionale straordinario che probabilmente non avremo più e per il quale forse conviene prepararsi oggi per cosa potrà essere domani nel senso che visto che quanto è andata bene e quanto sta ancora un po' andando bene forse è bene pensare adesso a quale sarà poi il momento di atterraggio futuro che grazie al super bonus grazie al PNRR potrebbe essere un atterraggio lungo però attenzione perché anche nel 2014 2015 2016 dicevamo scusatemi 2004 2005 2006 dicevamo ci sono dei segnali che questa crescita a un certo punto finisce preparatevi a un atterraggio preparatevi a un atterraggio preparatevi a un atterraggio alcuni sono preparati altri no inebriati dalla crescita ok ecco qui forse mettendo assieme tutti questi pezzi del mosaico possiamo capire quali sono alcuni fattori di accelerazione e alcuni fattori sui quali bisogna invece forse premere un po' il freno o comunque stare un po' usare magari un po' di freno motore ecco ma una domanda che mi faccio dopo che ho vedo tutti questi numeri una domanda che non è recente ma me la faccio sempre di più è se davvero oggi è importante analizzare l'andamento del mercato ovviamente la risposta è sì ok ma quali sono i parametri di riferimento che ci dicono se il mercato effettivamente sta andando bene soprattutto pensando alle imprese cioè oggi è effettivamente il fatturato l'andamento delle nostre vendite uno stimatore adeguato di come sta andando la nostra attività perché io non ne sono così sicuro non sono mai stato così sicuro che il fatturato sia il migliore indicatore vi ricordate anche Alberto Bubi diceva sempre la marginalità la marginalità fantastico la marginalità ecco attenzione perché dobbiamo capire effettivamente quali sono gli indicatori che ci dicono se stiamo effettivamente andando bene o male ma soprattutto a me personalmente da osservatore non credo che interessi tanto quanto sto crescendo ma come lo sto facendo cioè nella crescita del fatturato dello scorso anno nelle crescite del fatturato di quest'anno perché comunque state crescendo no com'è che state crescendo quali sono i fattori che vi stanno facendo crescere cioè come non quanto oggi la domanda è come stiamo crescendo perché stiamo crescendo con l'aumento dei prezzi ma i volumi di vendita poi li faccio in chili non lo so in metri e sono gli stessi allora stiamo crescendo o siamo semplicemente stiamo facendo stiamo vivendo di una crescita che non è nostra che non è la nostra capacità di incidere maggiormente invece sulle vendite ecco questo secondo me è la domanda che dobbiamo portarci come elemento diciamo di attenzione e di così sulle nostre previsioni quelle che noi facciamo costantemente tutti i giorni nelle nostre imprese e sulle previsioni complessive generali del settore grazie per l'attenzione grazie grazie